Invece le pensioni vengono colpite, avete visto che abbiamo cercato di difendere in qualche modo danno di messaggio, sono tutte misure che non hanno il futuro all'interno, hanno solo il passato, hanno come prospettiva quella di un paese che sfebbrato un pochettino, fra qualche mese tornerà ad avere tutti i problemi che abbiamo vissuto in questo momento. Grazie. Continuando nella nostra chiacchierata, mi preoccupo ancora di più perché la democrazia...